Quel tipo di supermercato dove di solito si va da studenti fuori sede e ci vai per umiliare il coinquilino o la coinquilina che ha speso 5 euro in più al Carrefour quando torna a casa con le sue buste della spesa lo guardi e dici Sei proprio un coglione! Guarda io Con 2 euro Certo, certo, mi dirai Ieri ho cagato, la mia merda era frizzante